assalamu alaikum a tutti ciao a tutti oggi parliamo di egitto e in particolare del caso di patrick george zaki assurdo come si dice agli onori delle cronache in quanto uno studente egiziano che studia in italia ed è stato arrestato in egitto alcuni giorni fa il caso ha fatto ritornare alla mente e anche quindi ritornare sulle cronache il caso di giulio reggeni il ragazzo italiano trovato morto in egitto ormai quattro anni fa caso rimasto insoluto di cui non si sono mai trovati colpevoli in realtà questi questi due casi sembrano molto collegati in italia si è subito scatenata diciamo una campagna di stampa molto insistente sui tutti i mass media e anche da parte dell'università di bologna dove zaki studiava per la sorte di questo studente che è stato arrestato in egitto e subito a varie organizzazioni come amnesty international hanno cominciato a parlare di torture di pericolo di morte eccetera in realtà poi queste sono risultate voci del tutto infondate gli stessi familiari hanno confermato che non è stato assolutamente torturato ed è in semplice condizione di arresto senza aver subito nessuna tortura quindi c'è innanzitutto da chiedersi perché questo can can che sui media è stato ultimamente un po' offuscato soltanto dall'avvento del coronavirus ma prima di questo avvento praticamente prendeva le prime pagine dei giornali e dei tg per una settimana buona nonostante appunto si tratti semplicemente di un ragazzo arrestato che non è stato neanche torturato sono state fatte manifestazioni per i diritti umani in egitto e tante altre iniziative anche dalla stessa università di bologna quindi sono dipinto questo arresto come una violazione dei diritti umani quindi un'ulteriore occasione per accusare il regime egiziano che in effetti è un regime che non è affatto democratico e diciamo ha una storia lunga di arresti arbitrari uccisioni di torture insomma un regime sanguinario che reprime in modo sanguinario qualsiasi opposizione però c'è da dire che in questo caso la reazione dei media è stata del tutto sproporzionata al caso in questione nessuno ha sentito le ragioni dell'egitto che poi naturalmente verranno chiarite anche più avanti nel processo ma l'egitto sostiene che zacchi è stato arrestato per aver condotto diciamo attività contro l'egitto quindi che l'egitto stesso definisce sovversive ora nessuno si è preoccupato di sapere se queste accuse fossero reali o avessero qualche qualche base dunque in realtà patrick george zacchi è meglio del membro è un membro della ei e i pr e in italiano sarebbe iniziativa per i diritti della persona che si occupa di questioni di genere diritti degli omosessuali e cose di questo genere questa organizzazione sembra avere delle relazioni con freedom house che è uno dei think tank dei pensatoi dei neocon che appunto si occupano di praticamente di organizzare le rivolte nei paesi che hanno politiche che contrastano con la la politica che piacciono ai neocon dunque tempo fa la freedom house e prese e fu multata per aver violato il divieto di farsi finanziare da enti stranieri e la eipr ne prese le difese tra l'altro questa multa fu fatta a diverse altre organizzazioni cosiddette per i diritti umani molte delle quali legate a george soros il fondatore di di hassan di di eipr che si chiama hassan baghat nel 2010 ha ricevuto il premio di attivismo straordinario da parte di human rights watch e i comunicati di questa eipr sono riportati e diffusi dalla open society foundation di george soros appunto come dicevamo prima bene quindi da questo si evince che questo george zaki non è una persona qualsiasi e l'egitto non si sta sicuramente divertendo a restare gente senza motivo questo senza volere naturalmente e giustificare in alcun modo la la dittatura feroce egiziana però la motivazione c'è ed è molto seria tra l'altro proprio nei giorni in cui eh zaki è stato arrestato ehm c'era una c'è una trattativa proprio in questi giorni sta continuando con lo stato italiano per una grossa fornitura di armi un contratto contratti per 9 miliardi di dollari per la fornitura di fregate, canciabombardieri e aerei di addestramento ricordiamo che eh l'Italia tramite l'ENI è impegnata nel nello sfruttamento del dell'enorme giacimento di gas di Zor in Egitto ed è impegnata anche nel eh del progetto del gasdotto EastMed che coinvolge l'Italia, l'Egitto, Israele, il Cipro e la Grecia quindi eh chiaramente questo 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 can can suscitato dai media evidentemente ha l'obiettivo di disturbare questi questi affari e non è difficile intravedere lo zampino del di Erdogan e della parte della massoneria che appoggia Erdogan in tutto questo questo affare in quanto Erdogan e la Turchia sono appunto concorrenti sotto tutti i punti di vista del 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 regime egiziano in in Medio Oriente e lo sono anche in Libia dove Erdogan appoggia il regime di Al-Serraj e invece l'Egitto sostiene eh Califa Haftar ecco eh ci sono molte analogie con il caso Giulio Reggeni che ricordiamo scomparve il 25 gennaio del 2016 venne ritrovato il corpo per strada torturato a morte il il 3 febbraio venne ritrovato eh bisogna ricordare che il giorno del ritrovamento di Reggeni eh c'era una missione in Egitto del nostro Ministero dello Sviluppo con più di 60 rappresentanti delle maggiori industrie italiane che stavano per incontrarsi per siglare contratti per miliardi compreso quello dello sfruttamento da parte dell'ENI del 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 giacimento di Zor che è il più grande giacimento di idrocavuri di tutto il Mediterraneo praticamente è un gas che renderà l'Egitto indipendente e addirittura esportatore sul piatto energetico e tra l'altro è importante anche per noi perché fornirà a noi eh un gas sicuro insomma a questo accordo erano contrari eh la Turchia e le forze massoniche americane inglesi legate a a Erdogan e infatti con la scusa diciamo così sotto l'onda emotiva del ritrovamento del corpo di 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 Regeni quell'incontro al Cairo saltò naturalmente già le modalità della morte di Giulio eh questo essere stato ritrovato in quel modo in mezzo alla strada già questo rendono sospetto il fatto di accusare immediatamente il governo egiziano di questo perché evidentemente eh una cosa talmente plateale eh che eh avrebbe dovuto esservi almeno qualche dubbio invece tutta la stampa accusato subito il governo egiziano dunque c'è da dire poi tra l'altro che la la diciamo così l'occupazione di Giulio Regeni non è molto chiara perché eh Giulio lavorava nel Regno Unito presso la Oxford eh analitica ci ricordiamo lo scandalo di Facebook dei dati rubati da parte della Cambridge analitica ecco la Oxford analitica è un'organizzazione ancora più grande della Cambridge analitica ed è ovviamente eh è noto che è usata da è una praticamente una centrale di spionaggio di commercio dati in cui sono invischiati molti servizi segreti eh è una è una multinazionale che è fondata da è stata fondata e da è tuttora guidata da eh tre persone eh poco raccomandabili Colin McCall è già stato capo dei servizi segreti britannici David Young è un ex assistente di Kissinger per tutti quelli che stanno che sanno chi era Kissinger questo già parla da solo e John Negroponte che è stato un ambasciatore uso ma è noto soprattutto per essere il creatore degli squadroni della morte in Honduras e in Centro America dunque personaggi non da poco dietro a questa Oxford analitica per cui lavorava Giulio Reggeni a tutto questo vi è da aggiungere che un'altra cosa assolutamente oscurata dai media cioè è la lotta contro il terrorismo che il regime egiziano sta conducendo da molti anni specialmente nella zona del Sinai abbiamo parlato in una delle prime puntate di non solo Islam ma di un attentato che ci fu in una moschea nel Sinai ma non c'è stato poi soltanto quello ci sono stati moltissimi attentati con moltissime vittime e naturalmente il regime ha reagito anche con durezza però questa cosa qui sui media italiana non è mai citata e viene dipinto il regime come un regime giustamente viene dipinto come un regime brutale ma viene dimenticato che il regime sta in parte anche reagendo a un attacco terroristico che è reale quindi l'importante è capire che questi due casi sono senza dubbio collegati e anche questi casi come altri che abbiamo trattato in altre puntate rimandano allo scontro per il diciamo predominio del Medio Oriente e in particolare dei paesi musulmani lo scontro che vede da una parte Erdogan e i suoi alleati e dall'altra si situano Arabia Saudita Egitto e gli alleati questo è la contesa per la prevalenza nel mondo arabo-islamico all'interno del progetto è uno scontro interno all'interno del progetto di nuovo ordine mondiale come è descritto dal libro di Samuel Huntington lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale bene e l'importante era far capire questo collegamento fra le due cose e che naturalmente il clamore suscitato su Patrick Zaki ha l'unico scopo di danneggiare le relazioni tra Italia ed Egitto ciao a tutti assalamualaikum a tutti alla prossima ciao a tutti